La battaglia della Lega Nord contro Limo continua al Senato nel question time. Il Carroccio chiede al Governo di rivedere la tassa sulla prima casa, in particolare in merito alle famiglie e alle imprese. Sì, noi chiediamo di intervenire urgentemente per alleviare il carico fiscale alle famiglie in ordine all'abitazione principale, di alleviare il carico fiscale alle imprese, perché le imprese dallo scorso anno pagano il doppio dell'imposta sui propri capannoni, sui laboratori, sugli uffici. E noi chiediamo che il Governo consideri questi immobili come una dotazione strumentale che non deve essere assolutamente tassata. Poi chiediamo garanzie ai comuni, perché con la sospensione del Limo sull'abitazione principale i comuni rischiano di andare in deficit finanziario e quindi rischiano di non far fronte all'erogazione dei propri servizi. Questo oltre perché Limo, famiglie e imprese si troveranno a pagare anche la TARES, la nuova tassa sui rifiuti. Introdotta come Limo, anche questa, dal Governo Monti. La Lega nel decreto sullo sblocco debiti delle pubbliche amministrazioni ha chiesto il rinvio della TARES. L'emendamento è stato bocciato, però il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale chiedevamo il rinvio al 2014. E' che noi chiediamo che nel provvedimento di riforma dell'Imu venga incluso anche la questione della TARES e noi confidiamo che anche questa possa essere riformulata per alleggerire il carico fiscale delle utenze, che sono famiglie e attività economiche. Vogliamo scongiurare il rischio che a fine anno ci sia l'ingorgo delle tasse.